Niente da fare per Atalanta Como, dopo l'iniziale decisione di rimandare di un'ora il fischio d'inizio a causa delle copiose piogge cadute in serata su Bergamo, alla fine l'arbitro tremolada assieme ai capitani delle due squadre ha deciso di rinviare la partita a domani. Troppe pozze sul terreno da gioco del Juiz Stadium che inizialmente sembrava in grado di reggere, ma alla fine ha costretto la Lega a prendere questa decisione. Il turno di Serie A, si chiuderà dunque domani sera con il match alle 20. 45. Da capire se verranno confermate le formazioni scelte per questa sera. Atalanta Como, le formazioni ufficiali.Atalanta, 3-4-1-2, Carnesecchi, Kosou, Jim City, Colashinac, Bellanova, Derun, Ederson, Zappacosta, Pascialic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.com, 4-2-3-1, Audero, Vanderbrempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Perrone, Strefezza, Pas, Fadera, Cutrone, All. Fabregas.